Diciamo che quando mi hanno chiamato poche settimane fa non ci ho pensato due volte perché una squadra che ti dimostra più volte di volerti così tanto ed è anche disposto a comprarti da un'altra società per me è stata una grossa dimostrazione e quindi ho subito accettato questa destinazione. La scorsa estate invece come è andata? Ci puoi raccontare in breve? Sicuramente c'era l'Ascoli, c'era il Pescara e io ho fatto una scelta, non ho assolutamente rifiutato l'Ascoli anzi ho semplicemente fatto una scelta dovuto al fatto che ci fosse Zeman che per un attaccante comunque ha sempre insegnato molto e quindi ho fatto questa scelta probabilmente col senno del poi non l'avrei fatta perché avrei dovuto scegliere l'Ascoli forse sei mesi fa. Cosa non ha funzionato a Pescara? Se ne è parlato tanto, Zeman ha fatto altre scelte, quali rimpianti hai a livello personale? L'unico rimpianto è stato quello di non aver potuto dimostrare il mio valore perché non ho proprio avuto possibilità di giocare. Non so per quali veri motivi però parlare adesso del passato e di persone, di una società che comunque non hanno creduto in me o comunque non mi hanno dato quello che mi aspettavo non ha più senso sinceramente. Grazie. Grazie. Grazie.